La notte di Israele è il titolo del volume di Limes, eccolo che trovate in edicola, in libreria, ma anche sul sito ovviamente per gli abbonati digitali, anzi vi ricordo che ci sono delle offerte, ci sono delle promozioni, insomma andate sul sito e trovate tutte le informazioni. Oggi la consueta puntata dedicata alla copertina e alle carte di Limes, e quindi è qui con me Laura Canali. Ciao Laura! Ciao a tutti! Allora cominciamo subito con questa notte di Israele e io mostrerei subito appunto la copertina con evidenziato il disegno della copertina che come al solito insomma è a tua cura e che come al solito spieghiamo, insomma necessita un po' di una spiegazione. Ma diciamo che ho giocato un po' su questi colori acidi perché la situazione non mi consentiva dei colori più caldi chiaramente. Anche se oggi mi sembra che la realtà è molto peggiore di quanto io possa avere miscelato in modo stridente tutti i colori possibili. Poi ho voluto tirare questi pezzettini diciamo che sfuggono dal Libano e vanno verso est e verso ovest legati alla stella di David proprio per ricordare la guerra naturalmente e quello che sta accadendo in territorio di Libano. Eh sì, infatti vedete, provo a ingrandire le stelle di David insomma con questa situazione turbolenta. Un disegno che è particolarmente azzeccato perché in questo volume si parla molto di terra, della terra di Israele, dei palestinesi, dei spostamenti. Anzi, non so se hai visto Netanyahu, no? Adesso ormai in ogni presentazione, in ogni conferenza mostra delle carte. Ovviamente lui per stabilire il principio che Israele è dal fiume al mare, quindi in queste carte ovviamente non c'è la Giordania, insomma ha un valore politico, però per quello che ci riguarda, no? Ha anche un valore diciamo estetico e informativo e insomma visto quelle sue carte tu le faresti meglio Laura, no? Che dici? Soprattutto con colori più adeguati. Beh diciamo che lui fa l'uso strumentale del nero naturalmente perché l'asse del male, no? Iran, Siria, Iraq, tutto colorato di nero, Libano. Per finire con se stesso in camicia nera, quindi che credo che rappresenti il lutto, però insomma visto insieme alla mappa a me ha fatto parecchia impressione. Eh sì. Quindi sia un uso strumentale della mappa, delle mappe in questo caso, del colore, tutto proprio pensato ma forse non fino in fondo perché appunto finire lui stesso che sembra una prosecuzione della mappa vestito di nero con la camicia nera, la camicia nera insomma è un impegnativo come indumento. Qui intanto ecco chiedo alla regia di mostrare qua insomma all'ONU a mostra queste carte Netanyahu, vabbè ma insomma è una piccola parentesi, è una piccola è una piccola insomma parentesi sulla questione. Allora ecco torniamo a noi perché dobbiamo cominciare a guardare le carte, le carte di questo volume. Incomincerei subito, guarda con Libano forse che è quello più di attualità e quindi questo è Libano oggi e mostrerei appunto, chiederei alla regia di mostrarle e a te di raccontarcela. Sì, allora questa mappa rappresenta esattamente diciamo i due fronti, quindi Israele e Libano e le stelline che è la prima cosa che salta all'occhio sono le esplosioni più o meno diciamo di tutte le aree che sono state colpite. Quindi le stelline nere sono gli attacchi izbolla e quelle gialle invece quelle israeliane. Non sono potuta arrivare fino in fondo per entrare anche tutta Israele, altrimenti la mappa diventava troppo piccolo in Libano. però c'è stato un attacco a Tel Aviv, quindi sotto forse non si vede, è così in basso a sinistra, attacco drone vicino a Tel Aviv, insomma per far vedere fin dove sono arrivati in profondità. E poi c'è importante questo ingrandimento proprio sull'Unifil, quindi le basi 1-32A, 1-31 che sono quelle italiane che sono state colpite e la 5-42, quindi la linea blu e il settore ovest che è sotto il comando italiano e quindi tutto, diciamo, è importante come piccolo ingrandimento. L'area Unifil completa la vediamo con questo diagonale arancio che va dal fiume Litani alla linea blu, quindi questo diagonale, ed è la zona che è stata praticamente bombardata quasi completamente. Si stanno spingendo anche tra il fiume Litani e il fiume Avali che sta un po' più a nord, sopra Sidone, perché quella è considerata un'altra fascia assolutamente da tenere più leggera, più libera rispetto, quindi non interessa più solamente il fiume Litani fino alla linea blu, ma anche più a nord. Poi è stata bombardata a tappeto la valle della Beka, come possiamo vedere, anche in territorio siriano. Adesso, diciamo, c'è stato anche un importante spostamento delle basi russe che sono al di là della linea ONU, diciamo, del Golan, che sono spostate probabilmente per fare spazio a incursioni israeliane per dare profondità dalla parte dell'altura del Golan, quindi l'area UNDOF, che adesso è stata tutta fortificata con mine e è diventato un confine di guerra. Ti fermo un attimo, perché le informazioni sono davvero tante, quindi diamo un attimo il tempo alle persone appunto di assorbire, perché qui siamo in una delle zone, in particolare questo ingrandimento, tra i più complicati, perché qua ricordiamo abbiamo l'altura del Golan occupate e annesse da Israele e contese da Siria e Libano, con quindi un'ulteriore missione delle Nazioni Unite, che qui è di interposizione tra la Siria e le alture del Golan, come evidenziato. Invece della missione ONU, di cui più sui parlato, di cui appunto c'è questo riquadro nella carta, UNIFIL è qui sulla linea di demarcazione tra il Libano del Sud e Israele. E vi ricordo su questo le puntate che abbiamo fatto con Lorenzo Sorombetta, con una serie di articoli sul sito e anche con una serie di trasmissioni qui sul canale, ci ha raccontato proprio questa linea blu passo dopo passo, direi, perché lui c'è stato più volte, ha mostrato anche delle fotografie, quindi vi ricordo questa trasmissione. Quindi vedete, un piccolo pezzettino della carta, tutte queste informazioni, questa è veramente una carta davvero con tante informazioni, ma ti prego, continua. Purtroppo, diciamo, la situazione delle mappe negli ultimi anni si è veramente complicata, perché appunto i dettagli sono tanti e sono importanti, vanno messi per un ragionamento più completo. E qui c'è anche un fatto territoriale, diciamo, delle montagne, infatti lo sfondo non è che sta lì per bellezza, però quando si dice Valle della Beca poi bisogna vederla, la Valle della Beca, quindi diciamo i rilievi sono importanti. L'antilibano anche, ci sono montagne come il Monte Hermon, che sono strategiche, perché il Monte Hermon sono anche le fonti del fiume Giordano, quindi tutta una zona di acqua che rimane sotto il controllo di Israele e fondamentale per spartire, diciamo, l'acqua. Infatti io l'ho anche disegnato il fiume sotto a Kiriat Shmona, che si vede questa piccola trama. Certo non ho messo il toponimo, perché altrimenti lì era già troppo fitto. Però insomma, seguendo passo passo, queste linee bianche in sottofondo sono le strade, perché anche lì se si guarda bene c'è una strada che corre parallela alla linea blu. Bisogna anche ricordare che tutta la zona, appena subito dentro il confine della linea blu, diciamo che si entra in territorio libanese, ci sono molte roccaforti e zbolla, quindi le roccaforti sono proprio delle case fortificate sul fronte e quindi quella è proprio la prima linea. Poi anche qui c'è un sistema di tunnel che passano sotto e consentono uno spostamento rapido dei guerriglieri. Quindi diciamo che in questo momento sicuramente il territorio di Unifil si trova sul fronte e è probabile che, insomma, la vedo una situazione molto difficile perché non potendo loro naturalmente partecipare al conflitto sono una forza di pace. Non so come potranno resistere a lungo, perché questa è una cosa che dobbiamo vedere. Eh sì, 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 quindi qua insomma il riquadro era proprio necessario. E che posso aggiungere? Appunto, vedete, le tante stelline sono i tanti attacchi israeliani, perché vi ricordo la situazione è, come dire, si è evoluta nelle ultime settimane, ma fin dal dopo il 7 ottobre ci sono stati scontri, raid aerei israeliani in Libano e lanci di razzi dal Libano verso Israele. Quindi vedete i tanti attacchi che sono qui indicati lungo la zona. Anche appunto l'area di Zubullah bombardata a tappeto, quella verdina, perché Israele sta compiendo anche questo, un po' come ha fatto con Gaza. Ci sono intere aree che vengono di fatto rase a sola, rese praticamente inabitabili, proprio per impedire poi attacchi da quell'area verso Israele. Insomma, davvero una bella carta. Anche i bombardamenti al di là proprio del confine del Libano, perché devono interrompere il flusso di armi che arriva attraverso la Siria. Bisogna pensare che molti missili arrivano anche dalla zona orientale, centro orientale della Siria, dopo la zona di Al-Tamf in Siria, per cui arrivano questi missili anche dall'aggiù, dalla profondità. Per cui c'è tutta la linea, i corridoi di Zubullah, il collegamento tra Iran, Iraq, Siria e Libano che va interrotto. Da punto di vista israeliano, ovviamente. Sì, è importante leggere le carte così, perché magari uno invece, uno sguardo più veloce, non si rende conto di tanti aspetti, di tanti dettagli e anche del lavoro che c'è dietro. E io vi ricordo che se volete approfondire queste tematiche, entrare nelle carte di Laura Canali, vi ricordo Mappe Parlanti, la rubrica video di Laura che trovate sul sito per gli abbonati digitali, appunto per approfondire il mondo delle carte, delle geopoesie, perché vi ricordo che Laura è anche attrice di geopoesie, insomma Laura ormai è un'artista a tutto campo e tra l'altro c'è un'ultima novità, è che tu farai parte, insomma farai anche protagonista della Biennale di Architettura. Ci racconti un po' di questo progetto? Sì, diciamo la notizia di ieri che il gruppo, c'è l'architetto Guendalina Salimei che ha presentato un progetto per il Padiglione Italia della Biennale di Architettura e dentro mi ha chiesto di partecipare con delle mappe e quindi insomma il progetto ovviamente è del suo studio e io faccio parte di una serie di persone come anche artisti, altri artisti che porteranno dei lavori per arricchire questo progetto, quindi sono molto orgogliosa, ce l'abbiamo fatta a superare tutti i passaggi e siamo stati scelti come gruppo che gestirà il Padiglione, anche lì Messe parteciperà durante l'anno. Il tema è l'acqua, l'Italia vista dal mare? Allora insomma cade a fagiolo perché allora ricordiamolo, perché il 9 e 10 novembre ci sono le giornate del mare qui a Roma, quindi organizzate il viaggio, tra l'altro è un periodo perfetto per visitare Roma, sarà in centro, trovate tutte le informazioni sulla rivista, sul sito, quindi sarà nel centro di Roma e due giorni, sabato e domenica e come tutti questi grandi eventi di Limes sarà inaugurato dalla tua mostra, la tua mostra cartografica che avrà ovviamente come oggetto il mare, che ricordo anche i precedenti volumi di Limes sul Mediterraneo, sul Medioceano, anzi come lo chiamiamo qui a Limes, insomma sono il tuo cavallo di battaglia. Sì, navigando tra gli stretti saranno 12 pannelli di grande formato, un po' come Genova e questa poi è la quinta edizione del festival del mare, per cui sarà dedicato anche molto, sono voluta scendere molto nel dettaglio con alcune zone, per esempio Singapore, lo stretto di Malacca, Gibraltar, anche Panama ha voluto mettere, perché Panama sta in una grande crisi dovuta a un forte calo del livello dell'acqua lì, dell'oceano, per cui insomma è uno stretto che è un po' in grave crisi e un po' si può pensare che è uno stretto che pesa quanto il canale di Suez, quindi insomma è importante, quindi è una mostra che però andrà molto nel dettaglio, arriviamo fino all'articolo, giriamo proprio un po' tutto il globo. Ovviamente faremo la diretta anche sul canale, quindi chi non riesce a venire insomma potrà vederla anche sul canale, ma insomma in particolare partecipare ai panel, ma in particolare vedere la mostra è un'altra cosa ovviamente di persona. Ma torniamo al Medio Oriente, Laura ha il volume di Limes che ricorda in edicola libreria. Io passerei quindi, insomma rimarrei in tema e passerei a Gaza, questa insomma questa carta molto significativa tra le rovine di Gaza, dove ovviamente non è la prima carta che fai sulla striscia di Gaza, ma qui c'è una novità, la prima domanda che ti farei appunto, la novità è soprattutto sui colori, direi. Qui il problema dei colori è sempre quello che dicevo prima, essendoci tanti elementi da dover cartografare, i colori sono necessari. Allora qui diciamo il cambiamento rispetto all'ultima striscia di Gaza che ho disegnato, c'è che quest'area di massima estensione dichiarata dell'area delle operazioni israeliane, questa in celestino, va proprio a sovrapporsi al Mawasi, la zona umanitaria. Ciò vuol dire che hanno dichiarato che possono penetrare anche nell'area umanitaria fino quasi a metà, come si può vedere sotto la scritta della strada Mivar-Stalaldin, no? E quindi si vede questo tratteggio, questo celestino che passa proprio a metà della zona umanitaria. Questo è molto importante, cioè quindi hanno dichiarato che possono arrivare fino a là. Poi ci sono in viola naturalmente i campi profughi e mentre io disegnavo la mappa, Jabalia, il campo profughi di Jabalia era stato circondato, non si poteva più entrare e ne uscire, infatti poi il giorno dopo è stato bombardato, sono state circa 22 bombe lanciate su Jabalia, quindi insomma stanno morendo veramente molte persone. Da questa mappa si può vedere bene sul corridoio Nezzarim che va dal Gate 96, che è questo nuovo ingresso che è stato fatto, che insomma è poco più che un buco in una rete, che va fino al mare. Lì prima era stato costruito questo molo dove c'è la stellina sul mare, no? Che sono praticamente degli avamposti militari e anche le costruzioni delle basi. Qui per mettere questa informazione mi sono affidata alle immagini satellitari della NASA che stanno monitorando quella zona, per cui questa è la fonte, infatti sotto lo scritto sono osservazioni satellitari, per cui sono circa quattro posti dove si stanno posizionando proprio delle, una sarà proprio una base militare, gli altri avamposti di osservazione. Io penso che questo sia proprio un corridoio ormai appunto fisso, che serve per spaccare in due la striscia di Gaza, quindi isolare Gaza e tutta la parte nord, che anche quella come si può vedere le zone in diagonale rosso sono aree dove sono, diciamo i guerriglieri, aree di infiltrazione di milizia, cioè dove sono i tunnel, quindi sbucano al centro di Gaza e scompaiono i guerriglieri per contrattaccare naturalmente. Quindi quella è una zona molto complessa, molto calda, quindi presumo che questo corridoio sia strategico per il futuro. Poi si vede l'area blu più scura, invece sono le operazioni di sgombero, quindi sono anche le aree che sono occupate in qualche modo, cioè dove effettivamente l'esercito è passato, l'esercito israeliano è passato. E poi c'è il corridoio Filadelfi. Anche questa è una carta molto molto ricca e poi ovviamente c'è la zona cruciale di Rafa, del Vallico di Rafa, che è quindi anche la parte insomma meridionale anche qui piena di informazioni. Infatti questa tragedia che noi stiamo assistendo, è una tragedia che si porterà dietro per generazioni, perché naturalmente la ferocia con la quale una parte e l'altra si sono azzannate, diciamo, è chiaro che questo porterà un odio prolungato nel tempo purtroppo. Quindi anche delle generazioni future, se mai si riuscisse ad arrivare alla pace o a un congelamento della guerra, poi dopo però l'odio che è stato seminato penso che veramente sarà quella la vera sfida del futuro. Sì, sì, e poi insomma ricordiamo alcuni aspetti, tipo qui sono evidenziati i campi profughi, ma ricordiamo che sono campi profughi storici che di fatto sono diventate delle vere e proprie città, ma poi è l'intera striscia di Gaza con una densità di popolazione altissima che sta diventando un intero, un enorme campo profughi, ovviamente con anche gli spostamenti di popolazione all'interno della striscia che abbiamo visto in queste settimane. E allora io passerei a questo punto, insomma, all'altro pezzo, alla Cisgiordania, una zona di cui si parla meno, ma molto molto importante e dove stanno succedendo tante cose interessanti. E già dal titolo capiamo perché questa carta si intitola Oggi Cisgiordania, domani Giudessa Maria? Sì, perché è il modo in cui, diciamo, il popolo ebraico chiama la Cisgiordania, che sono i nomi biblici. Chiaramente, allora intanto, specifichiamo un attimo, la Cisgiordania è un poco più grande del Molise e Gaza è più o meno la municipalità di Genova e il Libano è grande come l'Abruzzo, questo per dare un po' le misure di questi territori. E qui non solo, ovviamente è molto frazionato all'interno, ma chi legge l'IMES ormai lo sa, le zone arancioni forti sono queste aree di fuoco, chiamate così, che sono proprio completamente chiuse perché sono strategiche, come si può vedere questa fascia che praticamente corre parallela al fiume Giordano è proprio una fascia di sicurezza per proteggersi dal confine verso la Giordania. Tutte queste piccole zone nere, ci sono delle piccole macchiette nere, quelle sono proprio basi militari e come si può vedere da qui, cioè anche questa immagine non va vista, ci sono degli sguardi anche d'insieme perché per esempio da Gerusalemme, Maladumim, Gerico, Almog, è tutta una linea azzurra e questa è la zona municipalizzata di Israele. In più c'è l'area C, che è tutto questo verdino chiaro che sta sotto, che è pieno controllo israeliano per la sicurezza, pianificazione e costruzione. Quindi, come si può vedere, è come se avessero costruito nel tempo un corridoio che collega Gerusalemme al fiume Giordano. Poi lì c'è anche un passaggio, che è un valico che sicuramente è chiuso adesso, però lì c'era un passaggio con la Giordania. Quindi questo corridoio strategico, se ci si fa caso, Gerico risulta isolata. Infatti è una delle città più tranquille, diciamo, della Cisgiordania. Ultimamente, dove io ho messo quel cerchiettino nero a sinistra, diciamo, a nord-ovest di Gerico, ci sono stati degli scontri. È una zona piuttosto desertica come territorio. Ci sono stati dei coloni che sono entrati dentro una scuola e hanno terrorizzato, diciamo, gli studenti. che sono entrati con delle mazze da baseball. E questo sta succedendo, perché in sostanza è come se ci fosse l'autorizzazione a sparare, a colpire, senza chiedere il permesso. Quindi, diciamo, si vengono attaccati, soprattutto in questo momento, naturalmente i palestinesi, così improvvisamente. Infatti stanno morendo tanti giovani. Per esempio, a Ramalla c'è stata un'incursione di militari. Diciamo, è stato morto un ragazzo. È stato ferito gravemente un ragazzo di 16 anni che lavorava là dentro. Insomma, diciamo, c'è fuoco libero, fuoco aperto. E questo, nella Cisgiordania, è quasi come una guerra civile, insomma, in atto. Eh sì, quelle che azioni erano costanti, ma anche sporadiche, è comunque sottotraccia nella Cisgiordania. Ora non c'è nessun, diciamo, problema per i coloni che agiscono apertamente, liberamente. E ovviamente l'obiettivo anche qui, come Gaza e come Cisgiordania, come appunto qui in Cisgiordania, è, insomma, la conquista di maggior territorio, terreno possibile, appunto, nell'idea di un grande Israele, come appunto, poi abbiamo parlato anche in altre trasmissioni. e questa, tra l'altro, direi che appunto è una carta storica della Cisgiordania che tu fai da diversi anni, ma che ogni volta si aggiorna, no? Cambia, ogni volta si arricchisce di informazioni e che purtroppo è sempre attuale, insomma. Eh, infatti, in questo volume io ho lavorato tantissimo, però alcune mappe sono mappe che già abbiamo pubblicato, solo che l'aggiornamento vuol dire andare a vedere pezzetto per pezzetto che cosa è cambiato, perché poi le costruzioni cambiano veramente, ce ne sono tante nuove, quindi bisogna sempre confrontare le mappe vecchie. Io poi uso dei siti che sono israeliani, quindi Batslam, Peace Now, che sono anche, pubblicano tantissime notizie, informazioni sulle violenze dei coloni nei confronti dei palestinesi, ci sono tanti video, ci sono tante cose da guardare, da leggere per poter aggiornare queste mappe, quindi il lavoro è veramente enorme. Allora, direi di passare all'ultima carta di oggi, è la crisi del Mar Rosso, poi ovviamente nel volume ne trovate altre, anche in bianco e nero, quindi l'invito è sempre quello poi di approfondire sul volume. Quindi la crisi del Mar Rosso, e torniamo qui appunto a parlare di mare, qui passa anche una rotta strategica anche per l'Italia, e quindi questa è una carta fondamentale anche per l'Italia. Eh sì, perché è chiaro che gli attacchi uti hanno creato tantissimi problemi. Ricordiamo dunque che il canale di Suez è il 12% del traffico marittimo globale, e c'è stato naturalmente un calo, diciamo, quest'anno rispetto all'anno precedente, considerevole, e il porto che ha subito più danni Eilat, oltre a stare sotto bombardamenti, perché come dicevo prima, dalla Siria partono, oltre agli iuti, partono anche i missili dalla Siria, quindi Eilat è un porto praticamente in bancarotta, quindi come vediamo il meno 85% si riferisce al traffico, il calo del traffico, quindi praticamente è precipitato completamente. C'era un progetto, diciamo, di spostarlo un po' all'interno del territorio, quindi di scostruire un canale, di scavare un canale, e poi dopo creare un bacino interno, proprio per proteggerlo un po' di più. Però, insomma, c'è stato costruito anche un aeroporto vicino, proprio per incrementare, ecco, l'aeroporto esistente, questo qui, Asaf Ramon, e questo progetto di canale. C'è anche un vecchio progetto che risale agli anni 60, questo canale Ben Gurion, che io ho segnalato con il numero uno rosso, che è questo canale che salirebbe su fino al Mar Morto per poi andare a Ashkelon. Dunque, Ashdod è il porto più importante di Israele, completamente strategico, anche quando sono iniziati gli attacchi del 7 ottobre non si è mai fermato, perché attraverso il porto di Ashdod arrivano proprio, ecco, i beni, i prodotti strategici, che si parla anche, chiaramente, di cibo, Ashdod è che strategico vuol dire per forza l'uranio, ecco, insomma, di tutto. Però questo è un porto attrezzato anche per continuare a lavorare anche sotto attacco vicino e quindi è molto importante. Haifa è l'altro porto fondamentale. Però ecco, questo canale Ben Gurion che era stato progettato già negli anni 60 prevedeva proprio lo scavo della roccia per cui servissero 540 cariche di energia nucleare proprio per scavare questa roccia e per dargli la profondità giusta e chiaramente già questa cosa ci rende l'idea che non si potrà mai realizzare, insomma, un'opera del genere. E però c'è quest'altro progetto che invece è Southern Gate, cioè che sarebbe un corridoio tra strada e ferrovia per arrivare proprio dal Mar Rosso, dai Lat, entrare e arrivare su, affacciarsi al Mar Mediterraneo. Questi corridoi terrestri di quali stiamo parlando tutti perché ci sono alcuni in funzione come vediamo questi qui che attraversano degli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e poi sono degli Israele, sono delle dei tir, insomma, dei camion che stanno, la merce arriva al porto Jabal Ali che è un porto importantissimo degli Emirati e sbarcano le merci e vanno su, si risparmiano parecchi giorni di navigazione e si arriva, si scavalca diciamo il problema del canale di Suez perché ovviamente poi le merci israeliane e il traffico israeliano è quello che è preso di mira più di tutti. Quindi questo diciamo è un po' il progetto. Cioè nel progetto questo è già attivo scusate, è attivo già questo corridoio terrestre attraverso l'Arabia Saudita? Sì, sì, fammi dire che appunto questi corridoi sono molto importanti perché sono collegati agli accordi di Abramo cioè al processo di pacificazione in corso prima del 7 ottobre tra Israele e molti paesi arabi paesi della Lega Araba quindi molto lontani dall'Iran anzi grandi avversari dell'Iran quindi alcuni hanno sentito un accordo formale diretto Egitto, Giordania a alcuni paesi del Golfo Persico però insomma anche l'Arabia Saudita ormai era proprio molto vicina a un accordo con Israele anche se non è stato messo nero su bianco di fatto da tempo l'Arabia Saudita e l'Israele insomma collaborano e quindi il 7 ottobre della guerra successiva è anche collegato al tentativo di far fallire questi accordi e anche agli equilibri tra l'Arabia Saudita dell'Iran ma di questo appunto troverete poi tantissime informazioni sul volume e appunto ti volevo chiedere appunto di continuare sulla carta ovviamente io metto solo in evidenza anche lo Yemen dove è bellissimo è molto chiaro questa divisione delle aree che hai fatto anche dello Yemen eh sì perché ci sono delle zone in questa mappa anche la Siria lo Yemen adesso perché la Libia è un po' fuori però secondo me ci sono degli stati che non si può continuare a disegnare così compatti perché le entità che sono in Siria le entità che sono in Yemen sono quasi per me degli stati e quindi sarebbe secondo me è un'informazione scorretta vedere uno Yemen scritto Yemen su tutto lo stato così quindi sì è faticoso perché poi queste sono zone che ancora a parte quella degli iuti alcune zone un po' in movimento per esempio Al-Qaeda non è che c'ha questo staterello nel cuore dell'Uqaeda quella è una sua diciamo quella è una roccaforte però poi si muove si spazia quindi ecco ci sono delle anche lo stato islamico in Siria che si sposta quindi diciamo che purtroppo non è che si può pensare che alcune macchie che vediamo nelle mappe sono così fisse però non possiamo più disegnare una Siria unita come eravamo abitati prima non si può più disegnare uno Yemen unito ecco quindi questa è proprio una cosa che mi sembra fondamentale in una mappa ricordiamo le mappe poi per quanto possibile sono sempre corrette dal punto di vista geografico però appunto queste aree di influenza e di controllo spesso sono relative però è importante indicarle perché ci sono e che quindi bisogna fare rientrare nel ragionamento che ogni carta geopolitica richiede assolutamente sì sì cioè io ormai ce l'ho come base così le conservo così divise perché mi sembra giusto gli UTI sono praticamente lo Stato cercano anche una legittimazione attraverso queste escursioni queste guerre questi lanci è un modo per imporsi diciamo come entità politica e quindi vedremo dopo che cosa succeda certo non è che si può accettare uno Stato che bombarda così tutti però questo è comunque un linguaggio ecco noi viviamo in un'epoca in cui purtroppo ci sono tanti linguaggi , i quali noi non siamo abituati perché nell'epoca della guerra fredda c'era un linguaggio di un altro tipo due fazioni il mondo diviso in due fazioni ma c'era un modo di capirsi tra fazioni di linguaggio sotterraneo no questo invece sono tantissime entità diverse che hanno origini completamente diverse da potenza culturale e religioso dal nostro e quindi per noi è molto difficile però è la realtà nella quale viviamo eh sì assolutamente e allora intanto volevo mettere in evidenza questo aspetto qui per ricordare che appunto solo il 4% delle merci sulla rotta Asia-Europa ha continuato a transitare nel Mediterraneo uno di quegli aspetti che appunto si discuterà e si approfondirà durante le giornate del mare che vi ricordo 9 e 10 novembre qui a Roma appunto con la mostra cartografica di Laura Canali e vi ricordo anche di approfondire queste tematiche queste carte con mappe parlanti che trovate sul sito di Limes appunto il video di Laura allora Laura grazie del tempo che ci hai dedicato tra insomma i mille impegni ricordo anche l'impegno per la scuola di Limes anche qui trovate tutte le informazioni sul sito ovviamente per la scuola e quindi se non abbiamo altro da aggiungere Laura ti direi alla prossima grazie grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti